Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò i suoi discepoli «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò i discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Cari fratelli e cari sorelle, siamo sempre di più verso la conclusione di questo periodo. Anche alcuni di voi forse hanno già finito le ferie, altri sono tornati a casa, altri stanno iniziando. Siamo alla ventunesima domenica del tempo ordinario. E quindi in questo senso è un periodo ancora legato alla parola, una parola di Dio che può illuminare la nostra vita. Portatevi la Bibbia, leggete la parola di Dio nel tempo libero che avete, leggetelo nei momenti che avete. Fate in modo che ogni giorno questa parola, in vario modo, nella preghiera, nelle lodi, nella compieta, nella lettura della parola, possa illuminare. Perché? Perché non è facile capire il disegno di Dio nella storia. Non è facile capire che cosa il Signore vuole da noi. Non è facile capire come Dio sta costruendo la storia. La domanda che viene posta da Gesù ai suoi discepoli nel testo di Matteo, ci sta accompagnando, ve ne siete accorti, Matteo, in questo tempo estivo, no? Siamo al capitolo 16, che chi dice la gente che io sia? E poi rivolge ai suoi. Chi sono io per voi? E c'è quella bellissima affermazione di Pietro. Tu sei Pietro, siamo sempre al nord. Siete accorti già Tiro e Sidone. Siamo qui probabilmente alcuni esegeti, alcuni storici, dicono che siamo alle sorgenti del Giordano. Siamo proprio verso il nord. È interessante questa zona perché c'erano anticamente alcune grotte da cui sorgeva, veniva giù il fiume Giordano, e lì c'era un culto pagano, un culto dell'acqua, quindi della vita, della sorgente, ed è lì che Gesù pone questa domanda. E Pietro dice, tu sei, è un testo bellissimo, dice Simone, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Fa quella bellissima professione di fede Pietro, lì. Quello stesso Pietro che dopo un po' dirà, no, non puoi passare attraverso la morte, la sofferenza, deve capire cosa vuol dire Christos, liberatore. Deve ancora capire come Dio si rivela nella storia in quell'uomo Gesù di Nazareth. Ma questa professione Gesù l'apprezza a tal punto che è lì, in questa zona della Galilea, che Gesù dice, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non preverranno. E allora davanti a questo testo così bello che dice l'importanza, no, che davanti alla realtà dobbiamo saperla discernere, capire, come Dio ci pone dove sono, chi è il Cristo nella tua vita. Sei capace di riconoscere Cristo il tuo Salvatore, o sei talmente preipieno del tuo orgoglio, della tua presunta capacità di darti la salvezza da solo, no? L'autotrascendenza, no, che oggi è molto diffusa, la capacità di dire meglio di me non c'è nessuno, no? Senza di me non potresti far nulla. Ebbene, la parola di Dio di questa domenica in realtà ci dice riconosci il tuo Salvatore, riconosci il tuo Liberatore, riconosci colui che ti può dare la possibilità di costruire la tua vita non sulla sabbia ma sulla roccia. Pietro come roccia e quindi la tua fede rocciosamente radicata, il tuo Amen su Cristo e non su di te. Ecco, stiamo attenti perché Pietro imparerà a sue spese che non era lui il fondamento, ma Cristo è il fondamento, non era lui il fondatore della Chiesa, ma Cristo la fondazione. Lui era semplicemente, e continuerà ad essere, lo è attraverso i suoi successori, colui che indica il fondamento, colui che si radica sul fondamento e aiuta i fratelli a fondarsi, colui che dice questa è la pietra angolare. E allora in questa domenica vorrei davvero che tutti noi facessimo un bagno da una parte, visto che parlavamo della sorgente del Giordano, un bagno di umiltà. Umiltà non vuol dire non riconoscere la verità di se stessi, che siamo capaci di capire ciò che Dio vuole da noi, ma un bagno di umiltà vuol dire riconoscere che Dio è il nostro Salvatore, il nostro Salvatore ed è Lui, caro il Signore. Ed è bello, no? Simone è figlio di Giona, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Ecco, l'umiltà di alzare gli occhi al cielo e lodare Dio, no? Quando voi andate alla domenica messa, quando noi andiamo a celebrare, non dimentichiamoci mai che le nostre preghiere sono verso l'alto e che solo dall'alto viene la salvezza. Non è un'autoesaltazione di noi, eh. Delle volte io sento delle preghiere che sono delle grandi autoesaltazioni di noi stessi, no? Invece noi a Messa dobbiamo riconoscere che Dio ci dà la salvezza e riconoscendola la dobbiamo vedere presente nella storia, no? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Non dimentichiamolo, Dio è vivente attraverso Cristo e nella potenza del suo spirito continua ad agire. Ecco, io direi che in questa domenica non possiamo che ringraziare il Signore, questa volta lodarlo e ringraziarlo dicendo il nostro gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, dicendo il nostro gloria, dicendo il nostro lode a Dio. Buona domenica. Grazie. Grazie. Grazie.